Michele Poggi, di chi è invidioso solitamente? Chi e chi invidi? Ah... Sono invidioso solo, davvero, di tutte quelle entità che possono vivere fuori da quello che sono i limiti sociali del dover combattere per sopravvivere utilizzando il metodo del denaro. Per farla in maniera sintetica, gli schifosamente ricchi. E basta. Fine. Io certe volte non so se odiarti o amarti con tutto me stesso, Michele. Cioè questo te la devo dire, questo contesto.